come ultimo ci siamo consultati con elena alessandra e abbiamo detto comunque visto che ahimè l'altro giorno lo è messa chiarato che non siamo mai stati così vicini fine della pandemia ma purtroppo ancora lo vediamo tutti i giorni ci siamo dentro abbiamo deciso di fare un piccolo riepilogo riassuntivo così da poter tra virgolette avere chiaro in questo momento qualche consiglio utile a tutte le persone che o incontriamo per lavoro amici o parenti o noi stessi ecco vabbè questo non vi sto a dire nulla perché ho fatto elena in precedenza tutto il ciclo della spy aspetti che aspettate che riguardiamo un attimo la mia presentazione da qua sì esatto un po prima ok allora qui abbiamo fatto adesso io vi parlo solo l dei prodotti produciamo in questo laboratorio utili per trattare diciamo un po infettivo quindi laddove si è venuto a contatto col viso con le ultime vaccinazioni cosa possiamo fare dopo quindi non in fase acuta ovviamente ma nel post appunto soprattutto nel post che può essere può rivelarsi di diversi con diversi sintomi talvolta cambiano gli organi o gli apparati bersaglio e quindi abbiamo fatto un piccolo riepilogo chi era con noi il primo giugno lo ha visto a grandine ma adesso lo ripetiamo una piccola premessa sì 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 ok proprio così a livello di quello che noi vediamo sia come diciamo professionisti in erboristeria sia come informazione e sia lavorando a stretto contatto con tutta una serie di medici in questo momento è molto importante ed è opportuno laddove si è contratta la malattia quindi laddove si è positivi e c'è il covid in atto anche se i sintomi sono molto meno evidenti a volte più subdoli un po più leggeri tra virgolette comunque trattare questa positività il più possibile cercando di limitare di contenere il più possibile l'infiammazione prima ovviamente per forza di cause maggiori se si contraeva la malattia i sintomi tal sovente erano più forti più evidenti più più pesanti adesso via via con tutte queste sottovarianti create sovente sono meno forti ma non per questo danno non sono e da sono da sottovalutare perché quello che stiamo vedendo tantissimo soprattutto i professionisti che noi sono questi casi di long covid ormai hanno tutti i long covid cioè diciamo che non tutti i long covid molti professionisti stanno trattando l'ottanta per cento dei loro pazienti hanno sintomi in parte più o meno correlabili al long covid ed è un consiglio infatti parlavamo anche l'altro giorno con un nostro caro collaboratore un medico diceva sempre consigliare di trattare non sottovalutare i sintomi cercare di contenere l'infiammazione più possibile così da abbassare statisticamente la probabilità poi di avere noie settimane successive ok premesso questo sarò abbastanza rapido perché nel protocollo che abbiamo diciamo messo come consiglio la base è sempre rappresentata appunto nel post post infezione diciamo da questa carica virale nella sua massima espressione ci concentriamo subito sul salvaguardare e proteggere i vasi quindi ormai si sa che è una malattia vascolare più che più che altro e quindi cerchiamo di proteggere scolare come con questa formula che abbiamo già visto prima aggiungo solo una cosa che non è tanto quello che c'è quello che c'è dentro è fondamentale ma è la quantità quindi questi tutti i prodotti signum ma questi ultimi nati in particolare per il diciamo per questa pandemia hanno la differenza di avere un quantitativo di principi attivi al loro interno che è quello risultato utile attivo efficace da i maggiori studi scientifici internazionali quindi sì c'è la ma ce n'è un grammo per dose giornaliera 1000 mg di bromelina pura ad esempio la bromelina ha questo meccanismo di azione molto interessante su sulla protezione dei vasi perché attraverso interagisce un enzima che si chiama lipogenasi da lì promuove questa molecola chiamata plasmina che ha un'azione protettiva dei vasi perché la plasmina diciamo agisce proprio contrastando l'azione fibrinolitica e contrastando la generarsi di prostaglandine infiammatorie a carico dei vasi dell'endotelio quindi tessuti che ricoprono i vasi ok di cui sono costituiti i vasi quindi questo per dire che proteggiamo a livello vascolare il più possibile e ve lo dico già subito almeno per tre mesi ok allora abbiamo messo stanchezza spostatezza quindi la classico nel post è stanchezza spostatezza scopi eccetera proteggiamo i vasi col salvacor sempre per contenere l'infiammazione vascolare e consigliamo la redivita che è l'insieme di minerali alcune vitamine e alcuni antiossidanti c'è il NAC quindi l'nacetilcisteina che è altamente consigliato per comunque cercare di mandare via un pochino il più possibile queste dannate spike che si appiccicano dappertutto il NAC ha questa azione è come se ponificasse un pochino i vasi e poi bevendo acqua bevendo molta acqua durante il giorno è come se si lavasse via quindi si porta a parte di delle spike ma non solo quindi lui è un nostro può essere un ricostituente multiminerali multivitaminico tra virgolette soprattutto la b1 la b6 la b12 alta concentrazione di antiossidanti e alta concentrazione di vitamina c e appunto vitamina del gruppo b in realtà lui non è consiglio è una polvere quindi non è completamente solubile e quindi diciamo occorre o se diluito in acqua miscelarlo sempre un pochino e aggiungere un pochino di acqua in seguito per togliere anche la polvere dalle pareti o consigliamo in cibi semisolidi quindi un cucchiaino che può essere aggiunto a colazione, non so, alla ricotta, al mascarpone, a yogurt, qualunque cosa in un cibo semisolido può essere assunto risulta essere un po' più digeribile e anche un po' più facilmente assimilabile. Quindi salvacor nel dosaggio tradizionale di due compresse al giorno più un cucchiaino di Rd vita da un periodo che va almeno dalle 8 alle 12 settimane in totale. Se il post covid ci ha lasciato strasci che a livello di dolori, infiammazione e dolori, qui abbiamo scelto quello che per noi essere il rimedio un po' più universale per contrastare è l'infiammazione e il dolore che appunto è la bosueglia nella forma o in olio o in perle è un po' più pratica da assumere e ovviamente la bosueglia è un antinfiammatorio a 30 gradi magari a annoiare troppo con la bosueglia però è il rimedio di scelta per eccellenza. Quindi magari la classica persona che lamenta, la bosueglia può essere un ottimo rimedio soprattutto a livello osteoarticolo. Adesso un po' meno, però nella prima fase post guarigione possono protrarsi dei problemi a livello respiratorio, delle alte vie respiratorie ovviamente ormai Omicron non scende più, quasi più a livello polmonare, però ovviamente a fianco a un qualsiasi ottimo buono sciroppo per la tosse consigliamo il Surapin. Questi sono proprio aghi di pino che alcuni colleghi della Signum vanno, sono andati proprio a raccogliere fisicamente, alcuni in Val d'Aosta l'ultima volta e anche in altre Val di Sud e abbiamo fatto una lavorazione proprio dalla natura al laboratorio, una lavorazione super artigianale con una tecnica già un pochino avanzata che è la sonicatura, poi magari se volete qualcuno ve la facciamo vedere dopo il sonicatore. Comunque Surapin perché oltre a un'azione antinfiammatoria migliorativa della respirazione contiene la suramina che è attiva anche contro sempre la famosa spike. Quindi oltre a migliorare il discorso respiratorio contribuisce a detossificare ancora dalla spike. Qui abbiamo messo come esempio pressione alta se si protrae per un periodo, in realtà ancora meglio salvacor più olivo e biancospino. Quindi qui abbiamo messo il biancospino però facciamo un rimedio uguale, quindi sempre un'estrazione idroalcolica dove mettiamo le foglie di olivo oltre i fiori e le foglie del biancospino. È ovviamente un esempio, poi molti di voi conosceranno qualsiasi altro prodotto. Però questo per dire che la base comunque rimane contenere, contrastare l'infiammazione vascolare. E poi invece questo statisticamente è la cosa che più forse stiamo vedendo, diciamo è molto molto presente e comune, questo brain fog, questa nebbia cerebrale nel post-covid. Sempre più casi, sempre più persone. Quindi assolutamente, ripeto, trattare il periodo di infezione il più possibile, con tutto quello che volete, Virplus, ma anche farmaci, antico, qualunque cosa, va bene, perché si abbassa un po' la probabilità poi di avere noie. Quando prende livello cerebrale è abbastanza, come dire, abbastanza importante poi, perché alcune persone perdono proprio. Noi abbiamo più di una persona che è parte delle... è come se, loro ci descrivono sempre, è come se quello che hanno in mente non riesce poi a essere comunicato come normalmente farebbero. Quindi hanno questo effetto qui. Rdmemo abbiamo commesso perché è proprio un rimedio che è nato, diciamo, dallo studio in questi ultimi due anni per tutta una serie di ricerche scientifiche che aveva già la bacopa, noi facevamo sola, e abbiamo unito le proprietà della bacopa che aumenta proprio le connessioni a livello neuronale del cervello alla vitania, vitania perché comunque è sempre un'adattogena e quindi, oltre a migliorare un po' le funzioni cognitive, in generale, agisce proprio a livello, diciamo, proprio della memoria, ecco, di migliorare funzioni cognitive, memoria, attenzione e concentrazione e ovviamente velocizza quello che può essere una ripresa. Noi abbiamo visto anche delle nebbie cerebrali brutte, protratte per mesi, di, ma comunque che si risolvono alla fine, quindi alcune persone un po' prima, alcune un po' dopo, occorre del tempo, noi possiamo velocizzare questo processo naturale ovviamente, quindi solo quello. Certo, allora, forse c'è ancora qualcosa dopo. Ok, partiamo da qui allora, sì, la posologia è, allora, io consiglio sempre. Due salvacore, anche assieme, facilitiamo la vita il più possibile alle persone, quindi quando vogliono, poi insieme al mattino, ah no, la notte prima di dormire, però veramente facilitiamogli il più possibile. Allora, per questo, in generale, per questo, allora, nello specifico per questi due prodotti, ovviamente vale sempre la regola che se fossero assunte leggermente a stomaco vuoto, vengono assorbite un pochino più rapidamente, però fondamentalmente in una cura che, diciamo, in una cura, in un trattamento dalle otto alle dodici settimane come base, diciamo, i mesi, i mesi e mezzo comunque minimo, poco cambia se la scorbo un po' prima, un po' dopo, con i momenti che arrivino, questo. E il memo, invece, quattro capsuline al giorno. Anche lì, l'RD memo magari può essere fatto così, può essere fatto o il salvacore 2 prima di andare a dormire, come se fosse l'ultima cosa che faccio prima di coricarmi, e magari al mattino quattro capsuline, anche tutte insieme, se vuoi, di RD memo, e così io so che poi durante il giorno non ci penso più. Può essere un esempio, se no c'è chi prende un salvacore al mattino più RD memo a colazione, è idem alla sera, volete voi, comunque 2 più 4. Tornando indietro, vabbè, olivo e biancospino, insieme a salvacore, ormai le olivo e biancospino le do a cucchiaini, quindi un cucchiaino disciolto in mezzo bicchiere d'acqua al mattino, idem alla sera, comunque sempre le 60 gocce per tre volte. Esatto, olivo e biancospino, non è questa l'immagine, ma qualcuno di voi lo conosce, è in un flacone da 200 ml, e quindi diciamo a cucchiaini paradossalmente è un rimedio abbastanza semplice, tradizionale, ma comunque molto efficace, questo per esperienza. Le goccine di surapin, la base sono sempre 60 gocce per tre volte al giorno, anche qui non stiamo lì, io sovente dico alla signora, al cliente, dico guardi, lei si prende a mezzo bicchiere d'acqua, nella quale va a mettere direttamente anche 80 gocce, che corrisponde a 4 pipettine circa. Quindi se voi tirate su, si è schiacciata una volta la pompetta, tira su circa 20 gocce. Quindi io a volte le dico, metta, faccia proprio, c'è il bicchiere, faccia proprio una, due, tre, quattro pompette, gira e con la stessa acqua deglutisce una di salvacor al mattino e alla sera. In questo caso magari non dargliela in due momenti separati ha senso perché, diciamo, ci garantisce un po' un'azione nelle 12 ore di torne e nelle 12 ore di torne, soprattutto il surapine. La boswellia, il dosaggio invece, noi ne consigliamo due per tre volte al giorno, comunque sei al giorno, anche qui. Allora la boswellia invece è una, essendo in olio, è meglio assumerla mangiando, o subito prima, o subito dopo, o durante, ma comunque vicino al pasto. Perché essendo, la boswellia è una resina, l'abbiamo messa in olio perché viene assimilata meglio dall'organismo, ok? Quindi rispetto agli estratti secchi di boswellia, piuttosto che boswellia in colpe, di polvere in gocce, l'olio ne aumenta a stomaco. E a maggior ragione per sfruttare questa caratteristica, meglio ovviamente mangiando, in questo caso a stomaco pieno, o comunque subito vicino al pasto. Si può fare anche lì una di salvacor più tre di boswellia, se io voglio togliermi il pensiero a colazione, una di salvacor più tre di boswellia a cena. Ma è un esempio, ovviamente, va benissimo anche due a colazione, due a pranzo e due a cena, ma comunque sei. 120 dentro, dura venti giorni. Invece l'arri di vita, appunto, un cucchiaino da tè, quello leggermente al giorno. Sì, no, l'arri di vita è una polvere, un cucchiaino da tè al giorno. Se è possibile, magari questo al mattino, sfruttiamo anche un po' l'azione proprio energetica, ricostituente, data un po' dagli elementi che attuiscono. Volendo, vale un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto un po' prima per l'olivo e biancospino, chi non lo vuole assumere con un cibo semisolido può metterlo un cucchiaino a scelta. Quello che si scioglie si prendono le due di salvacor, poi aggiungo ancora quello quasi dalle pareti. altro e via. Comunque un cucchiaino al giorno. E penso che abbiamo terminato, giusto? Ok, questo è un po' il riepilogo, però è molto importante, soprattutto in questo momento. Grazie per l'attenzione, forse siamo stati nei tempi. Grazie. 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 Grazie.